Grande tensione come sempre, grandi aspettative, domenica cominceremo a vedere se il progetto che abbiamo costruito corrisponde a quello che avevamo in testa. Siamo al quarto campionato di Serie A1 e ricordo che la sensazione è sempre quella. L'obiettivo dichiarato è salvarsi il prima possibile con qualche patema in meno rispetto all'anno scorso e poi chissà magari puntare a centrare la qualificazione playoff. Sono questi gli obiettivi della Bartocini Forti Infissi Perugia che domenica farà il suo esordio nel campionato di Serie A1 ospitando al Palabarton la temibile Scandicci. Ma sarà un debutto anche per il nuovo coach Matteo Bertini alla sua prima panchina con le Umbre dopo diverse esperienze maturate in altre squadre della massima serie. La Palavolo odierna prevede che l'attacco è la cosa più importante come fondamentale. Abbiamo ancora tanto da fare su quell'aspetto lì. Credo che la squadra possa crescere tanto in attacco sia come qualità di colpi sia come conoscenza anche del palleggiatore. Siamo una squadra nuova e quindi sulle dinamiche di gioco siamo già abbastanza avanti però c'è tanto da affinare. Credo che il muro difesa possa essere uno dei nostri fondamentali migliori sia per la fisicità delle ragazze che abbiamo ma soprattutto per le qualità individuali. Il campionato quest'anno è si è alzato di livello, tante squadre hanno operato bene sul mercato, anche noi siamo soddisfatti di quello che abbiamo fatto con il nostro roster. Credo che si debba partire con l'obiettivo della salvezza e poi vedere partita dopo partita. Con le ragazze ci siamo detti non ci poniamo obiettivi. Alla presentazione della squadra svoltasi alla sala dei notari hanno preso parte dirigenti, atlete e anche le istituzioni locali con l'assessora allo sport del comune Clara Pastorelli che ha sottolineato come la presenza di tre squadre di pallavolo in serie A di Alustro alla città e ha rivendicato l'impegno dell'amministrazione nell'alleguare il pallabarton con i lavori di ampliamento che sono appena cominciati. Dal punto di vista tecnico l'organico della Bartoccini è stato molto rinnovato e presenta un giusto mix di esperienze e giovani promesse con qualche punto fermo dal punto di vista tecnico come l'ha confermata schiacciatrice Anastasia Guerra. Spero di essere un punto di riferimento in campo ma soprattutto anche fuori per le mie compagne e sicuramente ho un anno in più di esperienza anche io rispetto all'anno scorso è stata una stagione difficile che però devo dire mi ha insegnato comunque tanto e nel mio bagaglio insomma ho inserito diverse cose che sicuramente quest'anno mi aiuteranno ulteriormente ad affrontare la stagione.